Cari lettori e lettrici, la novità letteraria che sto per presentare è un romanzo checklet, che offre una riflessione sulla fama, sul mondo dei social media e sulle sfide che possono presentarsi quando si è catapultati nel mondo dello spettacolo, offrendo uno sguardo approfondito sulle pressioni, le tentazioni e le scelte morali che i personaggi devono affrontare. La lettura di questo libro è importante perché fornisce uno spaccato della realtà dei social influencer e delle sfide legate alla ricerca della fama e del successo nel mondo digitale, mettendo in luce le complessità e le ambiguità di questa realtà contemporanea. La trama del libro Star, Il destino tra le stelle della scrittrice Federica Gaspari, casa editrice Blueberry, è la seguente. Ma ti senti? Non hai niente da invidiare a nessuno di loro, piccola stella. L'hai detto anche tu, ti sei costruita una carriera, ti sei inventata un lavoro che ti ha portata davvero tra le stelle. Nessuno lo avrebbe mai immaginato. Beh, nessuno tranne me, ovvio. Martina De Faveri è una star di Instagram. Ha iniziato condividendo oroscopi per gioco dal suo account Fabstromory. Ma ora il gioco si è fatto serio. Ha ricevuto una proposta lavorativa che potrebbe cambiarle la vita. Uno splendido resort sul lago di Garda ospiterà lei e altre giovani celebrità che dovranno promuovere se stessi e la location. Ex calciatori dal fisico mozzafiato, stupende ballerine e affascinanti influencer saranno obbligati a vivere sotto lo stesso tetto per alcune settimane, sotto gli occhi attenti del pubblico e dei fan. Tra champagne e baci rubati, i dubbi si moltiplicano. Martina è davvero pronta per il mondo dello spettacolo e i suoi compromessi. Il suo destino è tra le stelle oppure resterà solo una meteora da dimenticare. Grazie per l'attenzione e buona lettura. Mi piacerebbe sapere cosa ne pensi della trama del libro presentato. Se hai voglia di condividere il tuo pensiero lasciami un messaggio. Celebra la magia della lettura condividendo questo video e aiutami a diffondere l'amore per i libri. A te non costa nulla, per me sarebbe un bel gesto di gratitudine. Ricorda, ogni piccolo gesto può fare la differenza. Per non perdere le novità letterarie iscriviti al canale.